buongiorno vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo ariete venere vi sorride insieme a una luna a voi favorevole vi regalerà attimi di intenso romanticismo toro i tempi sono difficili e potreste sbagliare la prospettiva meglio restare sul sicuro gemelli affronterete tutto oggi con molta energia una luna splendente nel vostro cielo più che mai vi influenzerà positivamente cancro scelte difficili vi attendono in questo periodo e dovrete iniziare a prenderne qualcuna oggi stesso leone oggi una persona che non sentivate e vedevate da tempo vi potrebbe cercare inaspettatamente vergine qualche dispiacere e in agguato sappiate mantenere la calma in ogni situazione bilancia giove e in aspetto particolarmente favorevole una buona giornata sotto molti punti di vista scorpione abbate abbiate cura oggi delle cose più piccole e dedicatevi di più agli altri sagittario marte vi rende nervosi niente paura già nel primo pomeriggio ci saranno ampie schiarite capricorno vi state sacrificando troppo per gli altri provate seriamente a pensare un po di più a voi stessi acquario la vostra forza di volontà è proporzionale soprattutto alla fiducia che avete in voi stessi quindi cercate di impegnarvi di più pesci avrai tante cose da fare parenti vicini invece saranno importanti questo è tutto il prossimo appuntamento con l'oroscopo e